La nostra ricetta è di ingredienti di spongebia, 5 uova, 300 grammi di farina, 300 grammi di zucchero. Direzione. Separate l'olio d'olio d'olio in tre parti diversi. Aggiungere l'olio d'olio in una macchina di maschina. Aggiungere l'olio d'olio con il zucchero. Aggiungere le due mixture e aggiungere l'olio d'olio. Aggiungere l'olio d'olio. Aggiungere l'olio d'olio d'olio. E residente di par GUGBAMI. Aggiungere l'olio d'olio di ritm. È molto importante per sapere alsi. Grazie per raggiungere il talcouco, Grazie a tutti.